Buongiorno, sono Mattia Merlin, docente di metallurgia presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara e afferente al Laboratorio MECLAV del Tecnopolo di Ferrara. Il gruppo di metallurgia si occupa di caratterizzazione microstrutturale e meccaniche di materiali metallici, sia ferrosi sia non ferrosi, e svolgiamo attività di ricerca sia di carattere istituzionale sia di trasferimento tecnologico per l'impresa. Il gruppo è costituito da personale docente oltre che da segnisti, dottorandi e borsisti di ricerca. Svolgiamo attività nell'ambito della caratterizzazione e dello studio del trattamento termico di leghe da fonderia, oltre che di leghe leggere e non leggere, prodotte mediante processi di manifattura additiva come la selective laser melting e la direct energy deposition. Nelle nostre attività svolgiamo tipicamente la preparativa metallografica, quindi siamo dotati di tutta la strumentazione che è necessaria per la preparazione dei campioni, oltre che per la loro osservazione mediante microscopia ottica ed elettronica scansione. Svolgiamo attività di ricerca anche nell'ambito della caratterizzazione tribologica di materiali ferrosi e non ferrosi, in particolare ci occupiamo dello studio di trattamenti o di rivestimenti superficiali con lo scopo di andare a migliorare il comportamento tribologico e la resistenza d'usura dei materiali metallici. Tra le altre attrezzature per la caratterizzazione meccanica del materiale disponiamo ad esempio del pendolo strumentato CRP per la valutazione della resistenza d'impatto delle leghe leggere. In questo caso il pendolo è strumentato, quindi siamo in grado anche di andare a determinare non solo l'energia totale assorbita durante l'urto, ma anche i due contributi di innesco e di propagazione alla frattura. La caratterizzazione del materiale in questo caso poi è ampiamente supportata da indagini microstrutturali dello studio della frattografia del materiale tramite microscopia elettronica scansione.